E' nato a Trani il CATT, il Centro Servizi per le Imprese del Norbarese con la Confesercenti della provincia BAT. Come sta andando questo inizio di attività qui sul territorio? Diciamo abbastanza bene, siamo in un periodo in cui già mantenere le posizioni significa crescere, ma noi stiamo andando in controtendenza e abbiamo capito che questo Centro Servizi, che avevamo in mente già da parecchio tempo, probabilmente risponderà più approfonditamente, più complessivamente, meglio alla esigenza che oggi abbiamo come imprese di dover dare comunque un'offerta di servizi a 360 gradi. Le imprese sul territorio in questo momento stanno tutte in grande difficoltà. Questo centro, questo supporto può essere decisivo per fare il salto di qualità? Sì, tenendo presente che è una crisi comunque strutturale, quindi sicuramente non se ne uscirà facilmente da questo periodo di crisi, noi intendiamo dare una risposta diciamo innovativa, tra virgolette, perché un imprenditore oggi ha bisogno di avere comunque una serie di consulenti che possano soddisfare le sue esigenze, perché non si tratta più di avere l'avvocato di turno, il commercialista di turno, l'ingegnere di turno, l'architetto di turno. Secondo me sono tutte professionalità che è messa insieme rispetto anche a una sempre mini politica di rivendicazione di categoria, perché non teniamo presente che oggi siamo veramente sotto il tiro anche di vari soggetti, quindi l'imprenditore fa sempre una parte abbastanza delicata del, diciamo, tra virgolette, chi approfitta della situazione. Io penso che invece l'imprenditore insieme ai consumatori debba comunque trovare una via d'uscita insieme anche al sistema istituzionale, perché la verità è che non si può più continuare ad essere oggetto di vessazione. Quali sono i servizi che offrite in più rispetto al periodo precedente all'iniziativa di questo CAT? Noi stiamo investendo molto sulla formazione e sull'area comunicazione e marketing, che comunque sono i due aspetti che sui quali, oltre agli altri, che comunque sono importanti, sui quali vorremmo insistere, perché il mondo del tessuto imprenditoriale nostro è comunque abbastanza distante da queste due tipologie di settore. Nella formazione, per la formazione noi intendiamo non soltanto quella tradizionale che già facevamo, diciamo formazione autofinanziata, ma abbiamo comunque un'aula che stiamo accreditando in Regione Puglia, oltre alla provincia Barletta-Andreatrani, per poter fare tutta una serie di servizi aggiuntivi per la formazione sempre legati al mondo delle imprese e per far sì che una formazione continua possa, una volta che magari entra, culturalmente parlando, entra nel cervello dei nostri imprenditori, possa essere comunque una valvola di successo, perché comunque un imprenditore formato è sempre meglio di un imprenditore che vive l'esperienza del momento. E poi invece sull'area comunicazione e marketing stiamo cercando di dare una serie di servizi che sono anche abbastanza innovativi, perché riusciamo anche a fare offerte comunque vantaggiose nella serie di servizi, che sono offerta di virtual tour, offerta di video, offerta di servizi tipo siti, comunque aggiornati, soprattutto nel cassetto del turismo. Riteniamo che questi sono servizi che in genere non vengono presi molto in considerazione dell'imprenditore anche per gli alti costi e noi cerchiamo invece di offrirli seriamente ad un prezzo vantaggioso o quantomeno un giusto rapporto qualità-prezzo. Come farei a trovarvi? Ma è facilissimo, basta venire a trani tenendo presente che questa è una sede comunque provinciale, il CAT Imprese Nord Barisi SRL, che tra le altre cose non dobbiamo dimenticare, abbiamo voluto intitolare al nostro vecchio vicepresidente provinciale, che purtroppo è venuto a mancare, Dino Di Tondo, essendo lui comunque un imprenditore che impersonificava l'essenza di un imprenditore moderno. Noi stiamo in via Malcangi al 197 di Trani, una struttura abbastanza moderna in cui possiamo anche ospitare degnamente i nostri imprenditori.